Oggi 29 luglio è l'Overshoot Day, è praticamente il giorno in cui noi esseri umani abbiamo utilizzato tutte le risorse che la Terra riesce a rigenerare in un anno. E' come dire che stiamo utilizzando 1,6 pianeti. E l'altra notizia sconfortante è che abbiamo diminuito dello 0,5% quella che è la biodiversità, dovuta purtroppo all'incendio e soprattutto all'incendio della foresta amazzonica. Quello che noi facciamo, sia come Movimento 5 Stelle e a livello appunto governativo, è quello di riuscire ad effettuare una giusta decarbonizzazione e una tutela di quelle che sono le nostre risorse naturali. Con una serie appunto di azioni, di riforme che abbiamo sedito nel piano nazionale di ripresa e resilienza e che stiamo portando avanti. Come cittadini l'unica cosa che si può fare è quella di essere attenti al nostro stile di vita, evitare gli sprechi, gli sprechi di cibo e soprattutto anche gli sprechi magari nel packaging, in quelli che sono gli imballi assolutamente da diminuire e da evitare.